Tutti benvenuti al Giuseppe Miazza o come preferiscono dire qui a Milano Allora alla fine non riescono a concludere nulla con quest'azione Si libera la grande, la conclusione E va La gioca in aria, colpo di testa Colpisce, va sul rimbalzo Cerca spazio, può provare Poca velocità scavalcandola col pallone profondo Pallone in mezzo, Jackson Martinez Spinosa, arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco Nessun gol, ancora zero Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo E passa, Jackson Martinez La difesa fa il suo, allontana la palla L'arbitro interrompe l'azione Allarga sulla fascia E va a colpire di testa Jackson Martinez che è giocata Colpisce il pallone Goal, goal Rete importantissima Situazione di parità perfetta E siamo ormai nel finale di gara E c'è il buato del pubblico Le tue squadre avevano tutte e due voglia di vincere Chi ha visto la partita Fabio Può capire da solo Perché nessuna delle due c'è riuscita Grazie a tutti Grazie.